la gomma buca buongiorno enrico ok niente avevamo un piccolo problema con l'abc di erwin stava insistemando e a che ora era la partenza otto e mezzo no il briefing che si otto e mezzo partenza vabbè dobbiamo cipare vecchio sono buco buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono le otto e mezzo di mattina e siamo già tutta da un'ora più o meno perché siamo svegliati in valle varaita vicino a san peire per la terza tappa della trans varaita 2022 abbiamo trovato una bella sorpresina il disco della mia ruota era completamente piegato non tirava neanche la ruota non capisco come sia possibile se nel furgone hanno sbattuto un po le bici che si è piegato il disco probabilmente sistemiamo il disco partiamo la bici di piano praticamente era senza aria dietro non si sa perché sistemiamo anche quella e adesso stiamo scendendo verso la partenza vedete questi sono tutti i rider che stanno partendo siamo arrivati in zona partenza abbiamo fatto il check in con il chip di piano un pelino in ritardo ma fa parte del gioco adesso meniamo per recuperare gli altri dobbiamo fare 700 metri di svivello per prendere la prima ps che è qui su a destra poi teoricamente ritorniamo giù ripassiamo l'impiazza andiamo a prendere l'impianto di risalita e ci porterà a fare ps2 poi ps3 nella fine di ps3 dovremo sbucare giusto davanti al nostro albergo quanto di livello oggi 3.00 e 2 di discesa e 1500 di salita pedalata non male morbidi si sale back in the game boys abbiamo recuperato gli ultimi della cordata ho già fatto un po di mental coach al piano stamattina abbiamo già buttato giù la strategia di gara siamo perfetti lì è san peire dove siamo partiti saliamo di qua ps1 impianti ps23 birretta e siamo al top oggi ragazzi si percepisce un po di stanchezza nel gruppo sono i primi che smontano e spingono i primi che si perdono giornata non facile secondo me all'angurietta che mi aspetta lì non sono sognata tutta notte angurietta buona anche oggi e si riparte da qui in teoria ci sono ancora 20 minuti poi siamo in partenza push 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 po di chill relax posto da paura anche qui comunque drone fpv bene i polsi vecchio poi fai anche un po di frenate così ma che aiuta sono aperto amo forca pressioni fatte stamattina top grande ragazzo caldo allora partiamo con calma gestiamo fino a metà e quando vediamo che il fine valle si avvicina ti sento tanto e da secondi vecchio partito al piano un passaggio in mezzo alle case partenza top bella roba comunque devo fare un applauso all'organizzazione perché le disceglie sono piene di marshall ogni 50 100 metri c'è sempre un marshall grande piano sta guidando bene è subito gira subito bomba bravo piedino giù questa discesa di 700 metri infinita ma che terrino che c'è qui bravo 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 ricordati di staccare un po i freni ogni tanto qui c'era il taglio sinistra non so se l'hai visto senza esagerare buono buono bello scivoloso è un po di urban ho tirato il jolly della vita lì spero ci fosse il fotografo lì perché anche ho guidato bene bravo molto bene senti i freni ps1 andata alla grande piano ha fatto solo un piccolo dritto però il resto guidato bene adesso ritorniamo in piazza e poi saliamo a prendere gli impianti l'asseggio via per andare a fare ps2 ps3 c'è un po di casino perché ci sono due manifestazioni contemporaneamente adesso andiamo a prendere il seggio via di sanpeire eccoci comodo questo molto comodo la mia biciclettina che atleta i gin tonic di ieri hanno fatto il suo effetto vogliate un po troppo però lo sai cosa non vedi le linee quelle un po nascoste solo quello sono un piccio di gomma ci prendiamo anche l'altro grazie what a place vecchio prima la valla sua abbiamo fatto un po di salita buongiorno Enrico Tobia ancora intera messaggio per Tobia basta impianti è finita la pacchia adesso si pedala guardate lì mon viso ho visto che c'era una montagna bella alta sono andato a controllare proprio quello non so se c'è un nome a sto passo sapete c'è un nome il passo qui? qua è quello di sanpeire quello di sanpeire ok andando in fondo è quello della bicocca laggiù super grazie ciao ciao è un elicottero c'è un elicottero, un aereo che figo assurdo sto posto c'è anche il cioccolato c'è anche il cioccolato c'è anche il cioccolato c'è anche il cioccolato ristoro fatto madonna è un miraggio tutte le volte paura e delirio ma che roba lasciamo la strada per questo trail ci hanno detto un quarto d'ora siete in partenza il tempo di arrivare siamo già pronti a partire non resta per noi vecchio relax vediamo bene vai vecchio partiti PS3 concentrato quanto forte stai andando vai 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 è lunga è lunga tranquillo deve essere un 3 di penso un 900 di dislivello più o meno super tecnico pieno di torrentini sempre da stare super in guardia che giolli che ho tirato anch'io tradizze assassine stanno scendendo forte puliti veloci grande vecchio ma non manca tanto è cian giù secondo me che figata questa grande vecchio infinita questa i freni che non frenano più infinita stiamo rientrando verso l'asseggio via che prenderemo per andare a far ps ps455 la terza di oggi che benessere una vita che non mi sentivo così che cosa c'è qui trac panozzo e cucchina vecchio non c'è un buco problemi 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 per andrea pialorci a taci che c'è un po di nuvolo adesso ciò gli avambracci che sono fucsia direzione ps56 va bene insomma l'ultima di oggi la stanchezza in gruppo ai massimi storici ma che bello ma si sale poco e poi tutta discesa che prima c'era un local che ci fanno questo bellissimo da lì scendiamo e partiamo a che trasferimento e ancora dieci minuti e poi siamo in partenza partiti per l'ultima ps piano on fire questa ci ha detto i local che fa paura è super bella è una classica del posto qui quindi l'aspettativa è alta la partenza già una figata mondiale che figata che figata vecchio stra bella no ho fatto partire il video no vecchio niente video del crash fortuna ce l'ho io ciao andepialo fuego fuego dobbiamo recuperare adesso è ancora lunga è ancora lunga stai concentrato non esagerare per niente importante guidare bene Questa dovrebbe avere tipo 700 di dislivello una roba del genere va che linea che mi caccia Il piano ha paura grande Paura delirio Mega drittone Grande piano salvataggio da paura Ma che trail è stra bello vecchio buono 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 Bomba bomba Siamo quasi giù secondo me Bomba 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 va bene va bene Grande Ho portato a casa anche il secondo giorno C'è una puzza di freni da paura Che gas sono andati forti Ho dato un'aperta una certa Ho fatto due errori un dritto E una caduta Stupido è andato via al davanti un po' così Capita Anche il dritto vecchio visto che sono finito io Vecchio quello lì Eh no Stile Il messaggino qui Sì Buongiorno Madonna paura 28 eventi in totale delle speciali di oggi Buono Andiamo a mangiare Andiamo a mangiare Sono più o meno 1100 metri di dislivello 900 dei quali di portage Grazie Grazie Grazie